abbiamo fatto veramente community ho sentito dei commenti bellissimi che mi hanno commosso davvero devo dire la verità perché da parte di tutti quindi volevo esprimere questa emozione visto che parliamo di esperienza mettiamoci nell'emozione e abbiamo con noi Davide Seveso di Fige ovviamente in ordine sparso Fabio Bracciotti di Valtenna poi abbiamo Arturo Vittorioso di H2H e Antonio Lombardo che è responsabile di Schenker Waterman quindi abbiamo qui con noi tutti i rappresentanti di quella che è un po' la filiera del nostro brand Revolution abbiamo i brand, abbiamo agenzie, abbiamo anche un'azienda di stampa materializzare l'esperienza con la stampa è un tema veramente mette quasi in soggezione però noi cercheremo di renderlo leggero come siete stati bravi voi, tutti voi a portare leggerezza, esperienza tantissimo know-how e tantissima creatività e fantasia ma anche vere soluzioni che hanno soddisfatto tutti gli attori della filiera e quindi cominciamo dal brand, cominciamo da Antonio ho chiacchierato un po' prima con Antonio abbiamo parlato un po' di stampa insieme perché non sempre i brand conoscono tutte le varie sfaccettature di quella che è giustamente ovviamente tutto il flusso e il processo di stampa e quindi ci siamo stupiti a vicenda del parlare chi del prodotto e chi da parte nostra della stampa e chiedo ma avete mai pensato a un packaging in questi termini come quello che avete visto realizzato qui a Brand Revolution ovvero una magic box che è in grado di coinvolgere il consumatore in tutti i sensi quindi materializzando proprio l'esperienza Buonasera, per prima cosa la nostra è un'azienda che si basa su un contenuto tecnico in cui il packaging era sempre visto come solo il mezzo per far arrivare il prodotto al cliente quindi un contenitore sostanzialmente da pochi anni a questa parte abbiamo fatto un timido tentativo di portare anche una sorta di comunicazione del prodotto tramite il packaging e diciamo che questo progetto è stata una sfida e anche una piacevole sorpresa come abbiamo detto perché ci siamo concentrati su qualcosa che noi da Brand Schenker Watermakers non credevamo potesse essere così forte anche a livello emozionale ovvero quello di trasferire un qualcosa, un'emozione, un pensiero riguardante il nostro prodotto ma anche già dalla scatola, dal packaging quindi come dice anche sempre Davide un effetto wow che per noi era non concepibile noi non riuscivamo ad immaginare un qualcosa del genere e devo dire che è stato un progetto sfidante ma che ci ha dato grosse soddisfazioni anche perché diciamo che il vostro prodotto è un prodotto che non è un prodotto di consumo piuttosto che qualcosa di facile da esprimere attraverso il packaging no assolutamente anzi spesse volte è un prodotto che passa da diciamo un intermediario nel senso che è una persona che va magari ad installare per l'utilizzatore, per il vero cliente il prodotto invece in questo modo c'è stata anche l'opportunità di parlare direttamente con il consumatore tramite il packaging e devo dire che il packaging, questo packaging parla veramente bene con il consumatore perché anch'io che non conoscevo il prodotto aprendo la scatola ho imparato immediatamente con una immediatezza veramente straordinaria il contenuto quantomeno e l'utilizzo faccio una domanda alle due agenzie quindi a Davide e Arturo diamo un nome a questo non so come si chiama ma io lo chiamerei marketing box magic box wow marketing wow marketing wow marketing perché fa rimanere a bocca aperta ogni volta è un'esperienza continua da quando prendi la scatola a quando la apri e entri nel prodotto perché quello che bisogna fare è creare un percorso un percorso di esperienza per arrivare al prodotto e non in modo che non sia come diceva giustamente Antonio un mero contenitore questo secondo noi non so se fa anche secondo me il packaging è un tramite cioè contiene qualcosa ma è il primo media di quel prodotto quindi è un vero e proprio media è sfruttarlo come un pezzo di comunicazione per fare una brand experience come descrivevi secondo me è la sua funzione cioè noi siamo un'agenzia di comunicazione facciamo un po' tutto il percorso dalla strategia fino allo scaffale lo scaffale è l'ultimo pezzo di quella comunicazione che parte dalla campagna magari passa per il digital e arriva lì lì devi essere è il momento più forte perché sei tu è la mano del consumatore che lo deve prendere e quindi è un media vero e proprio noi a differenza vostra non avevamo nemmeno il prodotto infatti la mia curiosità era questa perché in genere io penso però io non sono un progettista il packaging si costruisce intorno al prodotto ma quando il prodotto è un servizio un'idea un'emozione da cosa si parte? si parte da una strategia appunto quindi noi abbiamo ricevuto un brief dove non c'era un prodotto e abbiamo creato un percorso di comunicazione che svolgi quasi attraverso la scoperta del packaging quindi lo vedete lì sono vari pezzi vari libri che raccontano una storia fino all'ultimo libretto che è il prodotto stesso che viene venduto che sono dei buoni regalo dell'azienda Edenred e quindi sono materiale che il commerciale va a vendere direttamente all'azienda quindi è proprio uno strumento commerciale e devo dire che la difficoltà la sfida ma anche l'opportunità è stata quella di non avere il prodotto altrimenti sarebbe stata la scatola con un prodotto dentro comunque è rivincolato a fare qualcosa di averci una forma da riempire invece in questo caso è stata una massima espressione di strategia e creatività e di creatività perché avete inventato anche qualcosa che rappresenta il prodotto quindi una sorta di insieme al prodotto infatti è la libreria dei sorrisi The Smile Stories l'abbiamo chiamato ma è una libreria dei sorrisi che sono esattamente la sensazione di leggerezza che i dipendenti ricevono quando ricevono un buono regalo e alla fine sono soldi ragazzi quindi deve passare in qualche spizio che magari non avevi visto in programma ha una materialità che comunque dà l'idea del sogno quindi si è materializzata in qualche modo parliamo di stampa invece con Fabio per progetti complessi non solo in termini esecutivi ma abbiamo parlato di progetti davvero anche difficili nel loro concept da un certo punto di vista serve molta esperienza ma anche la capacità di entrare in sintonia con il brand e con il lavoro che si deve produrre ciao a tutti sì sicuramente serve molta esperienza è quella che facciamo poi ogni giorno che mantiene viva la passione per il lavoro che facciamo quindi non solo esperienza tecnica no non solo esperienza tecnica ha problemi purtroppo a volte essendo l'ultimo anello della catena che siamo costretti a risolvere e qui rispondo alla seconda domanda dicendo che sì è necessario entrare in sintonia con il brand e con l'agenzia ma purtroppo mi rendo conto molto spesso succede che questo succede troppo tardi quando ormai le aspettative si sono formate e i giochi sono fatti quindi siamo costretti ad arrivare come i cattivi che dicono no questo purtroppo non si può fare perché manca la tecnologia oppure si potrebbe inventare la tecnologia ma poi non sarebbe sostenibile a livello economico quindi l'invito che voglio fare è adottare la pratica la stessa pratica che adotta del brand revolution lab ovvero mettere subito sin dall'inizio agenzie brand e noi produttori che poi alla fine delle cose dobbiamo farle insieme e discutere del progetto perché per esperienza vi dico che quando questo succede si arriva più veloci al risultato e con un risultato migliore perché anche noi possiamo dare il nostro contributo certo quindi faremo brevetteremo il metodo brand revolution e cercheremo di farlo applicare in queste occasioni quando si deve creare un prodotto stampato non semplicemente non solo un packaging ma qualsiasi prodotto stampato tornando al brand tornando ad Antonio ho un'altra curiosità quanto la vostra idea iniziale di packaging si è evoluta e in che modo confrontandovi man mano come diceva anche Fabio con l'agenzia con i produttori quindi vedendo i materiali anche confrontandovi con le possibilità che la stampa offre beh c'è stata diciamo una rivoluzione completa una metamorfosi una metamorfosi esatto giustamente completa perché siamo passati da una vana doppia onda solo come un semplice contenitore a un packaging che è a sua volta un prodotto poi e ha delle caratteristiche a sua volta hanno un contenuto tecnologico importante quindi c'è stata davvero una metamorfosi dalla nostra idea iniziale che era comunque un'idea basilare di packaging a qualcosa che è veramente veramente molto evoluto certo quindi una metamorfosi anche una bellissima questa cosa che hai detto e mi fa piacere che l'abbia detta un brand che il packaging stesso è diventato esso stesso un prodotto con una propria identità questo è bellissimo una propria personalità anche quindi che dialoga con il prodotto dialoga con il consumatore però ha una sua vita e questo è veramente bello perché appunto diventa esperienza e di nuovo parliamo di nuovo con i creativi il design risolve il problema del committente però quando con una soluzione concreta di solito questo era un po' quello che era la definizione di design nella tradizione ma quando il prodotto è qualcosa di materiale non è più difficile realizzare il progetto sì è più difficile perché devi capire quali sono le caratteristiche di queste materialità che devi cercare di far trasparire dalla scatola dal packaging e bisogna lavorarci sopra bisogna interiorizzare il servizio il prodotto per riuscire a tirare fuori qualcosa che abbia senso e che possa emozionare chi la scatola la riceve chi il packaging la riceve e si riesca in qualche modo lo stesso a far vivere un'esperienza di apertura come quando da bambini si aprivano i regali a Natale qualche anno c'è il wow quando ricevi il pacco e non sai cos'è quando lo apri lo scarti vedi la scatola e hai un ulteriore effetto wow quando lo apri ancora e hai il proprio prodotto è un percorso è quello che dicevo prima che ci sia un prodotto che ci sia un servizio un prodotto fisico che ci sia un servizio deve essere sempre un'esperienza emozionante emozionale se si riesce a fare questo cavalcando i plus del prodotto non è così difficile si costruisce quindi una storia un racconto riprendo allora io in parte già avevo risposto a questa domanda però riprendo da lì si si costruisce un racconto e mi soffermo un po' sulla parte del design che dicevo prima una delle difficoltà che noi abbiamo incontrato nel nostro progetto è stata quella lì di stiamo facendo uno storytelling diverso da quello che fa il branding normalmente dobbiamo cercare di essere coerenti con il design e con quello che andiamo a progettare con i loro linguaggi sia a livello di art direction di design sia a livello di copy perché comunque stiamo prendendo una deriva completamente diversa da quello che fanno solitamente e quindi ci siamo focalizzati molto sulla parte di design a cercare di stare molto stretti su quello che è la loro identità infatti il nostro pack è un pezzo del loro marchio è un pezzo del marchio che diventa pack e poi diventa una storia stessa cosa con tutto il copywriting che è fatto internamente stressa molto questo concetto e quindi va a raccontare le storie dei loro prodotti con una chiave un po' romantica per farlo vivere all'interno perché comunque parliamo di sorrisi parliamo di una roba immateriale parliamo di sogni quindi abbiamo adottato questa coerenza di brand quindi interessante anche il partire dal brand quindi dal marchio anche questa è una cosa immateriale ma è un contenitore di valori un contenitore di esperienze un contenitore di know-how e tutto quanto è un contenitore del brand quindi fa branding quanto il marchio e quanto tutto il resto stiamo arrivando alla filosofia ve lo dico a quest'ora ci sta però è vero è vero tutto questo è vero parlando ancora di stampa quando appunto la funzione del packaging va oltre il concetto di prodotto proteggerlo e veicolarlo ma anche diventa intrattenimento diventa emozione quindi materializzazione dell'emozione utilizzare scegliere un materiale scegliere una una fustella particolare piuttosto che una nobilitazione diventa ancora un lavoro ancora più preciso da un punto di vista dell'emozione che susciterà quindi diventa ancora più un lavoro di precisione non solo diciamo esecutiva ma anche appunto da un punto di vista più emotivo emozionale sicuramente sì la scelta della tecnologia dei materiali fa la differenza quando si vuole ottenere questo tipo di risultato ma quello che fa la differenza è la combinazione di tecnologia e risultati di tecnologia e materiali quello che facciamo noi ad oggi quando vogliamo ottenere questo tipo di risultato che poi è il packaging interattivo quello che richiede un certo tipo di azione quindi creare un gioco con la scatola mettiamo in campo tecnologie che vengono anche da settori diversi quindi per esempio quello che abbiamo fatto ultimamente è stato prendere la tecnologia del taglio laser e forare un coperto di una scatola con 100 fori per permettere all'utente finale proprio di inserire dei pin e creare delle immagini in autonomia sulla scatola oppure abbiamo creato una scatola con una strip dove l'utente finale poteva strappare questa parte di scatola e scoprire un messaggio nascosto nel coperchio altre cose che abbiamo fatto preso la tecnologia che viene utilizzata per fare il grattevinci o il grattino del parcheggio e utilizzato questa tecnica che stampa su una ricopertura di una scatola quindi permettere al cliente di giocare e capire se aveva vinto con la sua scatola con il suo prodotto insomma quindi anche il trattenimento proprio che richiede un'interazione fisica anche da parte dei consumatori e confermo che più si alza l'asticella e più si fanno cose difficili più bisogna essere precisi assolutamente assolutamente un'altra domanda per Antonio e per il brand abbiamo visto che il packaging sì da una parte materializza l'esperienza dall'altra chiamo in causa altri altri canali perché dentro il packaging e dentro il packaging quasi tutti qui si è visto un QR code si è visto un collegamento a qualche cosa che rende anche misurabile l'esperienza del consumatore e quindi come svilupperete anche queste potenzialità con il vostro reparto marketing allora sfrutteremo questa potenzialità grazie a un'idea che è nata dall'agency quindi anche da questo punto di vista Davide e Paolo ci hanno aiutato in maniera perfetta ovvero quello del referral siccome il nostro target di consumatori è velisti comunque nautica da diporto o camperisti che sono comunque community dove il passaparola è fondamentale ed è anche diciamo motore nel nostro mercato potremmo dare anche la possibilità di tramite un referral ad altri consumatori che vedono il prodotto installato a bordo delle altre barche dei vicini di acquistare il prodotto e riceverlo in poco tempo per avere anche loro questo ed è sicuramente un qualcosa che ci aiuta che veicola ancora di più il nostro brand il contribuire a creare una community intorno al prodotto intorno al rete e cosa ne pensano le agenzie di questo di queste potenzialità come vengono sviluppate diciamo in maniera magari anche esasperata delle volte ci sono esperienze che potete citare in questo caso allora esasperato non lo so diciamo che il fatto di digitalizzare una cosa che digitale non ha niente il primo passo è quello del referral il secondo passo è quello di creare tramite un account quello sul sito in questo caso di Schenker nel portale del referral un account in modo che ogni acquirente abbia uno storico di quello che ha comprato perché le cartucce vanno cambiate con una certa frequenza ogni tot litri oppure ogni tot tempo di avere uno storico di quello che è stato l'acquisto e le sostituzioni del materiale di consumo nel corso del tempo in questo modo tra una stagione e l'altra perché il camper si usa nella stagione calda così come la barca tendenzialmente tra la fine e l'inizio della stagione la gente si dimentica quello che ha fatto così si esasperiamo se vuoi il digitale ma dando un ulteriore servizio Schenker sa dire al cliente quando ha acquistato e cosa in questo modo si ha sempre una traccia di quello che è il prodotto di come è stato usato nel corso del tempo certo quindi non solo esperienza ma anche un'utilità un reminder qualche cosa che diventa di supporto al consumatore e invece Arturo cosa pensi del packaging che entra proprio nella mente del consumatore e richiede una call to action come si veicola in che modo l'avete fatto in maniera iper creativa allora su questo progetto diciamo questa componente è affidata al consulente di Eden Red che va dal proprio cliente a vendere quindi non è un prodotto che deve parlare da solo parla un po' il consulente ma diciamo anche in generale in generale come dicevo all'inizio il packaging essendo un media deve essere una call to action e vedo sempre più packaging che sono molto interessanti dal punto di vista di copywriting perché ti parlano ti dicono qualcosa in più anche ti danno le istruzioni in un modo molto più orizzontale rispetto a prima che ti mettevo la lista degli ingredienti e veniva lì penso che questa cosa sia molto positiva e di al brand l'opportunità anche di relazionarsi in modo diverso fa parte un po' di tutto quello che poi è successo in comunicazione negli ultimi decenni dove i brand ormai parlano in un modo orizzontale e quindi anche col PEC che è un touch point di tutta la comunicazione ti rivolge al consumatore allo stesso modo certo come dicevamo è l'ultimo pezzo della filiera e anche quello deve parlare per quanto riguarda invece il rapporto del PEC con l'ecosistema digitale è assolutamente uno dei touch point che aiuta a far girare tutta la comunicazione la circolarità di comunicazione noi ci chiamiamo the circular agency facciamo questo nella vita quindi certo bello bello anche questo packaging che diventa un media ma non nel senso 1.0 neanche 2.0 ma di più di più parla con il consumatore ma diventa anche uno di quei strumenti per fare lead generation delle volte assolutamente abbiamo fatto delle attività dove inquadrando il PEC c'avevi della realtà aumentata che ti permette di accedere in quel momento a un altro mondo al famoso metaverso prima si chiama due anni fa si chiama realtà aumentata adesso si chiama metaverso però è quello e quindi c'è un'opportunità in più certo e per quanto riguarda la stampa invece Fabio da metaverso a qualcosa di veramente tangibile come sono le tecnologie i materiali eccetera come quali sono le tecnologie o magari mi citi un caso di qualche tecnologia specifica che avete usato di recente che ha soddisfatto proprio appieno le esigenze del vostro cliente dando proprio questo effetto di esperienza di materializzazione dell'esperienza è difficile è difficile è difficile allora diciamo che da metaverso a tangibile sicuramente per esperienza quello che vi dico è che il cliente vuole aggiungere peso perché già parliamo di una cosa intangibile quindi quello che ci chiedono di solito è vendo un software voglio del peso in mano ok e altre cose che vi posso dire che cosa mettiamo in campo o utilizzare la tecnologia esistente in maniera diversa o a volte siamo costretti ad inventare nuova tecnologia per soddisfare le richieste dei clienti questo tipo di richieste insomma certo quindi andiamo andiamo nel futuro esatto nel futuro ok possiamo farlo un commento finale alla vostra esperienza qui a Brand Revolution per me e per noi di Schenker ovviamente si è aperto un mondo e in tutta onestà un mondo che noi conoscevamo poco e che ovviamente cercheremo di sfruttare con magari nuovi progetti portare nuovi prodotti a un livello di comunicazione così alto come abbiamo fatto con il Water Up in modo tale da raggiungere sempre in maniera più profonda il nostro consumatore anche se è un prodotto che è prettamente tecnico e che quindi diciamo di emozionale a poco ma che in questo caso invece abbiamo ci è stato dimostrato dai ragazzi che invece ha le sue potenzialità che possono essere espresse in ogni caso quindi per noi è stata veramente una scoperta grandiosa e saremo curiosi di sapere com'è andata perché Brand Revolution non finisce qui poi sono semi che poi diventano piante la creatività si moltiplica Davide per noi è stata un'esperienza fantastica ci siamo divertiti abbiamo avuto modo di conoscere un cliente con un prodotto particolare l'abbiamo vestito gli abbiamo dato un senso gli abbiamo dato la dignità e loro ci hanno dato carta bianca si sono fidati di noi e mi sembra che sia uscito un prodotto di successo quindi siamo contenti che sia piaciuto a noi a tutti a loro e che sia venuta una cosa bella sì perché anche al pubblico è piaciuto esatto esatto erano tutti molto curiosi in effetti è un prodotto che da solo non parla non si capisce deve essere una bomba aiuto in questo periodo è meglio di no si fa l'effetto wow una bomba l'effetto wow allora per me anche per noi è stata la prima ah no è stata la seconda esperienza ma per me è la prima perché sono da poco in agenzia è un bel campo una bella prateria creativa nel senso che non me ne vogliono i brand ma abbiamo meno paletti del solito e quindi c'è tanta sperimentazione il fatto di avere sperimentazione poi mette in crisi i colleghi stampatori l'hai detto tu prima però però lavorando insieme possiamo risolverla e quindi sposo la la sua affermazione di prima lavorando insieme si trovano delle soluzioni che magari non è la strada che ci siamo immaginati ma aggirando l'ostacolo raggiunge lo stesso obiettivo però per una soluzione diversa magari migliore più semplice per tutti bellissimo hai detto due parole bellissime una sperimentazione una non avere paletti che se per la creatività è una meraviglia però io vi assicuro che ho sentito anche stampatori dire mi sono divertito perché non avendo limiti su dover nobilitare o provare a mescolare varie nobilitazioni varie tecnologie di stampa insieme è stata una soddisfazione quindi sicuramente anche questo può poi ridimensiono sempre è sempre un compromesso il risultato che si raggiunge tra l'esigenza di tutti il percorso del packaging design sarete d'accordo va adottato e va fatto con un approccio olistico dove si tengono in considerazione allo stesso tempo delle funzioni tecniche del packaging dove io mi sento poter dare il nostro contributo e delle funzioni comunicative dove voi darete il vostro contributo e alla fine del cliente che la scatola la dovrà utilizzare per vendere il prodotto quindi ripeto sono stato veramente soddisfatto di aver partecipato al Brand Revolution Lab perché è un laboratorio dove viene messa in pratica dove viene messa in atto la buona pratica di come bisognerebbe fare mettere tutti e tre insieme sin dall'inizio per arrivare a un risultato migliore e più velocemente fantastico bene siamo contenti perché era proprio questo il messaggio e anche proprio la concretizzazione del messaggio attraverso Brand Revolution quello che i ideatori di Brand Revolution i colleghi tutti i miei colleghi che hanno lavorato a questo progetto volevano ottenere quindi un grazie a voi per essere stati qui e un grazie per il vostro contributo e cosa posso dire alla prossima